Sarà dedicata a lei Santa Scorese, la prima vittima di femminicidio di stalking riconosciuta in Puglia a una strada di Palese. Mercoledì 30 aprile sarà scoperto il cartello stradale di via Santa Scorese nel tratto compreso tra via Leggino Priolo e via Generale Giovanni Vacca nei presi del municipio. Secondo la delibera di intitolazione, il provvedimento mira a dare visibilità culturale all'elemento femminile in questo particolare momento di impegno contro la discriminazione e la violenza verso le donne. Per questo l'amministrazione ha accolto favorevolmente la proposta avanzata dalla Commissione Consigliare delle Pari Opportunità del Comune di Bari presieduta da Mariella Santacroce e dall'esperta esterna Carla Massari. Di ricordare donne del nostro tempo, esemplari per condotta di vita, coerenza di propositi e nobiltà di ideali come l'universitaria Santa Scorese e Letizia Batticola, prima avvocatessa del Foro di Bari. Intitolando una strada di palese macchia Santa Scorese, una delle prime vittime di stalking e di violenza omicida da parte di uno squilibrato che la perseguitava da anni, il Comune di Bari indica a modello e simbolo della determinazione femminile una giovane universitaria dedita allo studio e all'impegno cristiano e sociale. La sua vita e i suoi scritti sono oggetto di attenzione da parte della Chiesa che già l'ha proclamata serva di Dio e ha in corso un processo di beatificazione per martirio in odio della fede avviato nel 1998 dalla diocesi di Bari Bitonto. Sulla sua vita di santità trascorsa tra slanci di carità cristiana e incubi per gli ossessivi pedinamenti e le quotidiane persecuzioni da parte del maniaco, oltre al diario personale, sono consultabili diversi libri e da tempo va in scena la rappresentazione di teatro civile santa delle perseguitate del teatro della fede di Grottaglie. Santa Scorese nasce il 6 febbraio del 1968 a Bari, nella sua casa di Rione Libertà. Dopo la scuola dell'obbligo si iscrive al liceo classico Flacco, successivamente frequenta la facoltà di pedagogia. Nell'agosto del 1987 si trasferisce con la sua famiglia a Palo del Colle, dove intensifica il suo impegno sociale cristiano. Sin dal quinto ginnasio frequenta un corso per pionieri della Croce Rossa, si occupa di ragazzi poliomilitici affetti da distrofia muscolare. Dal 1984 aderisce alla milizia dell'Immacolata e contemporaneamente frequenta il movimento dei Focolari. Si reca spesso la casa di riposo a far visita agli anziani soli, presta la sua esemplare azione nel centro parrocchiale, partecipa assiduamente all'iniziativa dell'azione cattolica, svolge attività di catechismo e fa parte del coro. Impegni che la spingono a intraprendere un'appassionata ricerca della sua vocazione. Intanto un giovane squilibrato prende a minacciarla e dopo anni di ossessivi pedinamenti, nella tarda serata di venerdì 15 marzo 1991, mentre tornava da un incontro di catechesi in parrocchia, la colpisce mortalmente. Aveva solo 23 anni, le sue ultime parole sono state di perdono per il suo assassino. Grazie. Grazie. Grazie.